Come domare i capelli crespi anche d'inverno. Sì, avete capito bene, anche d'inverno come in estate, la stagione può compromettere la vostra chioma. Sì, è una stagione magica, ma fa freddo e l'aria è secca, soprattutto quando nevica. Chiediamo a chi va a sciare che i capelli si ritrova a fine giornata e idem chi indossa capelli e sciarpe per proteggersi dal freddo. Quindi cosa succede ai nostri capelli? Si caricano di elettricità. Diventano quindi elettrizzati e si increspano. È capitato a molti di voi. Quali consigli posso darvi per prevenire tutto questo? Oltre alla scelta giusta di prodotti per il lavaggio e l'idratazione delle vostre lunghezze, c'è un prodotto che potete usare anche tutti i giorni. È lo spray protettivo Elisir della nostra linea Zanchine. È ideale per minimizzare l'elettricità statica ed è ottimo come anticresto. Evita anche tessuti sintetici quando acquisti i capelli o sciarpe e non spazzolare sempre i tuoi capelli con spazzole di plastica. E un altro consiglio dopo il lavaggio, non strofinare energeticamente con l'asciugamano, perché potresti causare quell'effetto crespo tanto odiato. Tamponali delicatamente. Il segreto per aiutare i tuoi capelli è mantenere un'umidità costante su di loro, anche d'inverno, come attraverso una routine anche quotidiana con prodotti ricchi di componenti idratanti anche senza risciacquo. Vuoi saperne di più? Scrivi nei commenti.